Sindaco Limardo, arriva il Natale, non è un Natale come tutti gli altri per vivo, il suo comune è stato praticamente scombussolato, ha subito un piccolo terremoto dalle ultime inchieste giudiziarie. Sì, purtroppo è così ma noi non ci abbattiamo, non demordiamo. Io se per un verso sono turbata ovviamente per questi eventi che sono accaduti, per altro verso vivo con leggerezza, come ho già detto in Consiglio Comunale, questa situazione per i maggiori spazi di legalità che sono stati ripristinati sul mio territorio. E' chiaro che è Natale ed è tempo di serenità, è tempo di un messaggio di pace per le famiglie, questo senz'altro. Un segnale di pacificazione ovviamente con tutte quante le famiglie e che sia un Natale di serenità senz'altro. Lei comunque, a onor del vero, per cronaca di tutti i fatti, aveva già ridimensionato quelle che erano le competenze del dirigente Nesci lasciandolo solo in capo al Consiglio Comunale, quindi comunque non si sa se dopo la visita della Guardia di Finanza ma il comune stava già intervenendo per una tutela possiamo dire di quelli che sono gli interessi della collettività vibonese. Guardi, io sin dal primo momento agito a tutela degli interessi della comunità vibonese e sin dal primo momento senza tentennamenti, senza se e senza ma ho intrapreso quella che secondo me è il percorso e la strada giusta. Per cui tutti i miei provvedimenti, a partire dal 3 giugno, da quando mi sono insediata fino all'ultimo banale della Commissione elettorale che ho fatto adesso, sono tutti inseriti in questo binario che è quello della correttezza amministrativa, della trasparenza, della legalità e della normalizzazione di questa comunità. Del resto i provvedimenti che riguardano i dirigenti sono provvedimenti che anche questi seguono il solco della legalità perché la legge mi dice che i dirigenti devono ruotare nell'ambito degli incarichi e io questo ho fatto nell'ambito di una ruotazione di incarichi. Lei è un sindaco, è una donna, è un politico, è il primo cittadino di Vibbo, qual è l'augurio che fa ai suoi concittadini? L'augurio di Natale è certamente un augurio di pace, un augurio di serenità. L'augurio per i miei cittadini è che riscoprano insieme con me questi maggiori spazi di legalità che sono stati aperti e per come è stato mirabilmente detto occupiamoli con la parte sana della nostra comunità. Abbiamo bisogno di risalire i gradini dove siamo stati cacciati negli ultimi tempi e uno a uno io sono sicura che con la collaborazione delle istituzioni stringendoci l'uno accanto all'altro, facendo rete sono certa che riusciremo a riportare e apportare di nuovo la nostra comunità a quello che merita, che è certamente normalità, sviluppo, economia, prosperità ma nel solco, come torno a dire, della legalità e della trasparenza. Grazie.